Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che potete trovare su Tumblr ma comunque qui sotto nell'info box troverete in fondo i link a tutti i miei profili social, al mio blog, al sito dove ci sono i libri che ho scritto io e quindi se volete un po' conoscermi meglio mi raccomando visitate quei link. Oggi su richiesta, su una richiesta che ho ricevuto mesi e mesi e mesi fa e il post era pronto da mesi, giuro, però non ho mai avuto il tempo di girare il video ci dedichiamo al genere steampunk, a dire il vero ci saranno due video e due post dedicati al genere steampunk, uno dedicato a una lista di libri steampunk in italiano che vi suggerisco e invece un altro video e un altro post dedicati a dei libri in inglese di genere steampunk che vi suggerisco. Oggi partiamo con i libri disponibili in italiano. Il genere steampunk è un filone della narrativa fantastica che introduce una tecnologia anacronistica all'interno di un'ambientazione storica. Di solito, canonicamente, diciamo, lo steampunk più classico è ambientato nella Londra vittoriana, ma ci sono delle macchine più evolute che non quelle che si potevano trovare all'epoca, spesso collegate comunque con i motori a vapore. Ma, a dire il vero, soprattutto negli ultimi anni, il genere steampunk si intreccia anche molto col genere distopico o cronico o anche fantascientifico. Quindi anche, per esempio, libri che parlano di uomini sulla Luna possono essere sempre di genere steampunk, a seconda di come ci sono arrivati e di come si costruisce l'universo dove questo fatto avviene. O altrimenti, sempre all'interno dello genere steampunk o cronico, abbiamo che in passato, ad un certo punto della storia, qualcosa è successo e la storia è cambiata, ha virato. Quindi il mondo moderno, attuale, non è quello che conosciamo noi, ma è del tutto diverso, perché appunto c'è stato questo fatto in una data del passato che può essere appunto nel 1800 come può essere nel 1700, ha cambiato per sempre la storia e ha cambiato la tecnologia, la conoscenza e praticamente tutto il mondo come lo conosciamo. Quindi diciamo che in realtà, anche se il genere steampunk è un genere, potremmo definirlo di nicchia, potremmo definirlo abbastanza piccolo in confronto ad altri generi letterari, in realtà siccome spesso si intreccia con altri generi, sempre di nicchia, sempre piccoli, è più ampio di quello che si possa immaginare. Purtroppo però rimane comunque qualcosa di abbastanza marginale per quanto riguarda, almeno a mio avviso, le vendite. Quindi insomma non abbiamo tantissimi best seller di genere steampunk, ok? Questa è la realtà. E non abbiamo purtroppo tanti steampunk tradotti o scritti da autori in italiano. C'è qualcosina però sicuramente in inglese c'è molto di più di questo genere. Però qualcosina c'è e oggi voglio suggerirvelo in questa lista di libri disponibili in italiano di genere steampunk. Partiamo con la serie Steampunk Chronicles di Cindy Spencer Pape, che in originale si intitolava The Gaslight Chronicles, che in lingua originale contava otto libri, ma qui da noi sono stati tradotti solo i primi 24, reperibili solo in digitale, quindi solo in ebook, nella collana Elite di HarperCollins Italia, quella che una volta si chiamava Harmony. I libri in questione sono Incantesimi e Ingranaggi, Fantasmi e Fotografie, Gonnelline e Piovere Giganti, Chiari di Luna e Macchine a Vapore. In realtà questi libri, essendo pubblicati da HarperCollins, già questo vi dovrebbe far scattare qualcosa, sono un'unione di steampunk e romance, sono molto brevi, molto semplici, niente di straordinario, però sono carini, se vi piace appunto comunque il genere steampunk, intrecciato col genere rosa, ok? E in modo leggero, ok? Invece un libro, a dire in vero una serie che vi consiglio veramente di cuore, ma ve l'ho già consigliata sul mio blog almeno 150 volte, credo di avervi stufato ormai, è la serie Iron Seas di Mel Janbruch, di cui però in italiano è disponibile solo il primo libro, che per fortuna però è autoconclusivo, quindi è leggibile anche da solo e si intitola La Stirpe, in originale si intitolava The Iron Duke, questo è veramente, anche questo, c'è il romance, c'è il giallo, c'è l'azione, ma è comunque un vero e proprio steampunk, cioè l'ambientazione steampunk la fa da padrone in questo romanzo, che veramente condensa tantissimi generi al suo interno, è veramente molto molto affascinante. Anche qui parla di un fatto storico che ha cambiato per sempre il mondo e che è successo nell'Europa di fine 800, invece di esserci l'imperialismo inglese, che ha colonizzato un sacco di altri paesi, non c'è stato nemmeno Napoleone buona parte, ma c'è stato l'impero cinese, qui chiamato Orde, che ha, grazie a una tecnologia avanzatissima, nanoteca addirittura, ha conquistato Asia, Europa e anche parte dell'Africa. Quindi le popolazioni europee sono fuggite in America e l'Inghilterra, grazie al fatto di essere un'isola, ha resistito a lungo, ma poi è stata sottomessa. L'Europa ormai è una landa selvaggia ed esolata, dove l'Orde estrae bene e materie prime e distrugge tutto il resto. Inoltre è popolata da zombie, coloro che non sono fuggiti e sono stati infettati dai naniti geneticamente creati dall'Orde. Agli inglesi è andata un po' meglio, sono rimasti vivi, anche se infettati dai naniti e sono stati solo leggermente modificati con arti sintetici e controllati sempre dai naniti che hanno tolto loro le emozioni, in modo che potessero essere usati come operai nelle fabbriche, mentre gli zombie non si possono controllare. Questi naniti riuscivano a dare ordini a controllare gli inglesi grazie alle onde radio, quindi venivano proprio usati come robot, invece ai nobili, alle classi nobili inglesi, era andata un po' meglio, ma non erano comunque liberi, perché quando i cinesi volevano che i lavoratori si riproducessero davano un comando radio a tutti e tutti si sarebbero accoppiati col primo o i primi che incontravano, proprio come animali, quindi anche i nobili non erano esenti da questi ordini dall'alto. È durante uno di questi momenti fuori controllo che una nobile inglese viene violentata da dei cinesi e nove mesi dopo dà la luce una figlia con gli occhi a mandorla. Mina, la protagonista del libro. Poco dopo l'adolescenza, mi sembra, di Mina, o comunque quando era giovane, qualcuno, un eroe, un pirata, che si chiamava il Duca di Ferro, per fortuna riuscì a distruggere la torre radio degli orde in Inghilterra e questo permise agli inglesi di ribellarsi all'impero cinese e a riconquistare il loro paese. Ora l'Inghilterra è povera ma libera e alcuni inglesi che erano emigrati in America stanno tornando su solo inglese, ma due secoli di schiavitù hanno modificato molto la società. Mina, ad esempio, essendo mista, figlia dell'orde e di una donna inglese, non è trattata malissimo, è accettata soprattutto per il fatto che appartiene a una famiglia nobile inglese, però allo stesso modo sparlano di lei, c'è chi le urla contro i pititi perché comunque il suo aspetto, i suoi occhi a mandorla ricordano gli oppressori. Ciò però comunque non l'ha fermata da riuscire a intraprendere una professione che una volta alle donne era preclusa, cioè quella di ispettore di polizia e un caso a cui deve lavorare le farà incontrare proprio il Duca di Ferro che era il suo mito, il suo eroe quando era giovane. Però quando lo conosce scoprirà che il suo eroe è un po' più umano di quello che lei credeva, ha dei difetti che lei non aveva mai immaginato, però ha anche dei pregi e in effetti ha veramente la staffa dell'eroe, anche se lui stesso non lo crede. Insieme scopriranno una terribile congiura, infatti Lorde sta preparando un piano per riconquistare l'Inghilterra e loro dovranno impedirglielo. Già dalla trama secondo me capirete che è veramente un libro avvincente, scritto bene, ve lo super consiglio. Sì, è steampunk, sì, è profondamente steampunk proprio per questo uso di una tecnologia avanzata in un'epoca in cui non c'era, proprio per il fatto che il mondo è estremamente diverso da quello che conosciamo, ci sta tutto ed è veramente veramente scritta bene e ve la straconsiglio. Altra serie steampunk che è disponibile in italiano e vi suggerisco veramente è sicuramente la trilogia Leviathan di Scott Westerfeld. Chi non lo sa ancora? Per chi ancora non lo sapesse, io amo molto come scrive Scott Westerfeld, anche se è uno scrittore young adult, la sua serie Hagris è stata una delle mie preferite qualche anno fa, vi lascerò qui sotto comunque nell'info box il link al post di cui parlavo di quella serie, perché era veramente molto molto carina e seppur ambientata in un futuro distopico diverso dal nostro mondo contemporaneo, affrontava in modo moderno e atipico e anche semplice il tema dell'importanza dell'aspetto esteriore di una persona contro l'aspetto interiore, ed era veramente veramente molto molto carina. Allo stesso modo vi suggerisco anche la trilogia Leviathan, che è formata dai libri Leviathan, Behemoth e Golia, ma in realtà è stata pubblicata da Mondadori anche in un comodo unico volume, sì è un po' un tomone, ma sono tre libri in uno, quindi ne vale la pena. E sì, è young adult, quindi io preferisco diciamo le serie adult, però comunque affronta temi così seri che non sembra nemmeno così young adult, se non fosse per l'età dei protagonisti. Diciamo che anche questa è steampunk, ma anche ucronica, infatti abbiamo anche qui ad un certo punto è successo qualcosa, anzi in questo caso sono successe diverse cose che hanno fatto in modo che la storia come la conosciamo virasse un pochino a destra. Invece di avere semplicemente una rivoluzione industriale, come è avvenuto nell'Europa dell'Ottocento, abbiamo avuto in questo caso due rivoluzioni, quindi da un lato una specie di rivoluzione industriale, dove alcuni paesi si fanno chiamare le potenze cibolanti, perché appunto hanno puntato su questa produzione di macchine che facciano un po' di tutto. Mentre dall'altra parte abbiamo degli altri paesi che si chiamano gli alliati darwinisti, che invece puntano sugli animali, sull'evoluzione e su come si possono incrociare le specie animali per comunque creare anche qui una rivoluzione che porti avanti comunque la società, che possono essere utilizzate al servizio della società per migliorare appunto la vita nell'uomo. Naturalmente è naturale che queste due rivoluzioni tra loro cozzino, quindi i paesi che seguono una certa via alla fine finiranno in guerra con i paesi che seguono l'altra via e scoppierà appunto la prima guerra mondiale che comunque scoppia sempre a Sarajevo nel 1914 con l'attentato dell'Arciduca d'Austria. Quindi comunque questo passato alternativo in realtà segue anche la storia come la conosciamo noi, quindi questo è molto affascinante. I protagonisti della serie sono appunto Alec che è il figlio dell'Arciduca assassinato in fuga da un impero di cui nessuno lo vuole erede ed Erin che invece è una ragazza che si è arruolata in vesti maschili nell'aviazione britannica. Questi qui passeranno appunto da fazioni opposte, diventeranno amici, poi diventeranno alleati, insomma è molto pieno di azioni, soprattutto nel primo libro, ma anche il secondo. Però c'è anche tempo per l'introspezione, c'è anche tempo per un, adesso penso proprio a chiamare scene d'amore, no, però comunque c'è diciamo anche qui un interesse romantico all'interno di questa serie, tenendo sempre conto che stiamo parlando di uno young adult, quindi tasso di sensualità 0,0 più o meno, ecco, mentre non ve l'ho detto ma invece la serie Iron Seas di Merzian Brook, quella di cui vi ho parlato prima e il libro la stirpa invece è anche delle scene un po' hot, perché comunque stiamo parlando di un libro adulto che ha anche un lato romantico abbastanza esteso. Invece la serie Leviathan di Westerfield è per un pubblico molto più giovane, quindi state tranquilli, non contiene niente di sensuale, cioè proprio un lieve filone romantico, ma anche lì non è secondario, è terziario a quella che è tutta la storia di questa trilogia, che comunque vi consiglio. Altra serie che vi consiglio, anche se io non l'ho ancora letta, è il ciclo di Mondonove dell'autore italiano Dario Tonani, composto dai libri Cronache di Mondonove, Naila di Mondonove e Il racconto breve Sabbia Nera. Allora, qui ci addentriamo nel puro steampunk, ok? Quindi se finora vi ho parlato di serie o di libri che erano un'unione di diversi generi, steampunk più romance, steampunk più young adult, steampunk più ucronia, qui stiamo proprio nello steampunk puro, quindi questo ve lo do come un preavviso, cioè più che la storia raccontata in questi libri, il protagonista è l'ambientazione di questi libri, perché è nell'ambientazione soprattutto che questo autore riversa tutta la sua capacità di dipingere un mondo steampunk, quindi affascinante proprio grazie alle dicotomie che contiene, che si materializzano appunto con pianeti desertici con distese di sabbia infinite dove gli uomini devono navigare su queste onde di sabbia con delle navi meccaniche che vanno a vapore, quindi aspettatevi chissà quali trame, questa è la realtà, qui bisogna avere proprio un gusto per lo steampunk e avere un gusto per il perdersi all'interno di un mondo, perché è lì che sta il fascino di questa serie e di questi libri brevi, quindi sono veramente molto molto brevi. Altro libro steampunk che vi suggerisco è L'alchimista, il destino dei gargoyle di e Caterina Sedia, anche qui non siamo proprio nello steampunk puro, diciamo che in questo caso lo steampunk invece si incontra un po' col paranormal romance o con l'urba fantasy se così vogliamo dire. la protagonista però è un personaggio tipico dello steampunk, quindi un automa dotato di intelligenza che si chiama Metti ed è abile nell'alchimia, qual è il suo problema? Il suo problema è che Metti si trova nel mezzo di un conflitto fra ingegneri e alchimisti, cioè quindi tra potremmo dire uomini che credono nella meccanica e invece uomini che credono nell'alchimia che invece appunto è una scienza che si basa appunto su pozioni, diciamo attraverso conoscenze farmaceutiche esoteriche, quindi diciamo che gli alchimisti pensavano di essere in grado di trasmutare la materia, quindi magari di trasformare non so il piombo in oro o altre cose del genere e quindi capirete che si costano quindi invece con delle persone che credono puramente nella meccanica e Metti si trova in mezzo a questo conflitto perché lei è il frutto di entrambe queste discipline, cioè lei è nata sì grazie all'ingegneria ma anche grazie all'alchimia perché lei è qualcosa di più di un'automa, lei ha una volontà propria, un libro veramente molto molto carino, probabilmente se dovessi dire un suo difetto è che magari non ha il tempo per sviluppare a pieno tutti questi interessantissimi temi che contiene, perché ha talmente tanto da raccontare proprio come trama quello che succede a Metti, proprio come azioni che magari non è il tempo invece di presentarci più approfonditamente sia lei che altri personaggi che magari rimangono, restano un pochino piatti, invece sarebbe stato carino approfondirli, ma resta comunque un libro molto molto piacevole. Altro libro steampunk che vi suggerisco, anche qui lo steampunk diciamo incontra la fantascienza, è La macchina della realtà di William Gibson e Bruce Sterling, allora praticamente qual è la trama? Prima venne la macchina a vapore, poi venne la macchina della realtà. Come sarebbe il mondo se il computer fosse stato inventato già nel XIX secolo? Abbiamo anche qui una specie di ucronia, praticamente se la tecnologia fosse avanzata prima di quanto ha fatto nella storia reale, cosa sarebbe successo? Avremmo già avuto McDonald's ai tempi di Lord Byron e cose di questo tipo, è un libro diciamo da prendere sì seriamente ma anche con leggerezza, è steampunk ma allo stesso tempo è tipo una sfida allo steampunk, è un voler giocare con lo steampunk, è un volere sperimentare con lo steampunk e creare un mondo così assurdo da risultare però comunque plausibile, veramente carino, anche qui più che la trama del libro la bellezza è semplicemente l'ambientazione, quindi non è adatto sicuramente a tutti i lettori, questo non è un libro che va letto per la storia ma per tutte le storie che contiene che formano il mondo che questi autori hanno creato e il fascino del libro sta appunto in questa ambientazione, in questo mondo. Invece se vogliamo passare a un lato più sporco dello steampunk sicuramente non possiamo non citare Joe R. Lansdale con per esempio Fuoco nella polvere, qui abbiamo lo steampunk che incontra il far west ed è un genere che in America è abbastanza ampio, se di solito lo steampunk è portare delle tecnologie più avanzate o strane o atipiche nella Londra vittoriana o nell'Inghilterra vittoriana, molti autori americani hanno anche tentato di fare questa inserzione di tecnologie avanzate o strane nell'ottocento però nel far west, all'ovest, quindi come in questo libro appunto in Fuoco nella polvere abbiamo Buffalo Bill di cui però è rimasta solo la testa a bordo di uno zeppeling diretto verso il Giappone e cosa sta andando? Sta andando a fare una tournée con il suo spettacolo viaggiante, il Wild West Show, ma che fine ha fatto il resto del suo corpo e soprattutto la sua è una missione così innocua come sembra o nasconde qualcosa? Diciamo che qui lo steampunk incontra anche un pochino il genere pulp, quindi siamo di fronte a una scrittura molto cruda, molto arida, con scene abbastanza forti, però allo stesso tempo c'è comunque questo mondo affascinante nel fatto che questo fascino sta nell'ambientazione che si è venuta a creare, però in questo libro si punta di più sulla trama e su questi personaggi così strani, così messi in luoghi che per loro sembrano assurdi perché nella vera storia dovrebbero essere da tutta altra parte e stare facendo tutte altre cose, invece abbiamo la testa di Buffalo Beer che è comunque vivo, che sembra che sia stato inviato come spia verso il Giappone, quindi qui è la trama che la fa da padrone e anche qui comunque si gioca molto con l'ironia, c'è proprio un gioco da parte dell'autore di vedere fin dove si può spingere per rimanere comunque a bordo della plausibilità in un certo senso ed è comunque molto molto carino se vi piace questo genere di libri abbastanza crudi però. Invece un autore italiano che vorrei citare per il genere steampunk è Augusto Chiarle che ha scritto diversi libri steampunk, diverse serie, io qui vi cito il libro Le ombre di Marte ma su Amazon e su altri siti potete trovare anche altri suoi libri, anche qui come per mondo 9 è uno steampunk molto puro, non mixato con altri generi, quindi forse un pochino più ostico per il lettore, bisogna proprio che uno ami i propri generi steampunk e anche qui è l'ambientazione più che la trama, anche se comunque a differenza di mondo 9 qua c'è uno sforzo in più per la trama perché comunque c'è anche l'inserimento di alieni, perché praticamente questo mondo prende il via dal fatto che siamo negli anni 20 del 900, quindi nel 1920, però il mondo è diverso da quello che conosciamo perché 30 anni prima gli alieni hanno invaso la terra, però sono morti subito in seguito a un'epidemia perché non erano pronti per i nostri virus e quindi l'umanità si è evoluta tecnologicamente in modo più avanzato che non nella storia reale perché ha potuto studiare i relitti delle loro navi spaziali, quindi possiamo vedere delle carrozze a cavalli che però hanno delle armi a raggi laser, macchine a vapore e robot elettromeccanici dirigibili, cannoniere fluttuanti, quindi è veramente un mondo molto molto affascinante, anche qui è il mondo che la fa da padrone, l'ambientazione che la fa da padrone più che non la trama, anche se comunque qui una trama un po' più complessa c'è effettivamente. Qui si chiude la mia lista di libri steampunk o mix steampunk disponibili in italiano, spero che vi possa essere interessata e che vi sia piaciuta, se così è cliccate mi piace qui sotto e magari iscrivetevi al mio canale per non perdere i miei prossimi video.